Il Milan è stato letteralmente disintegrato dalla Lazio dopo essere stato umiliato dall'Inter. Due partite così, con sette gol al passivo e soprattutto con una squadra soverchiata sotto tutti i punti di vista, non possono trovare giustificazioni. Ecco, se paradossalmente dopo la partita di Riada si poteva pensare alla classica serata storta, vederla ripetere negli stessi termini, con gli stessi giocatori sostanzialmente in campo, non ha più nessun tipo di scusante né per Pioli né per i calciatori. Certamente il Milan sconta una modestia della rosa che tutti avevamo sempre segnalato e che in qualche modo era stata nascosta dallo spirito, come l'ha definito poi dopo la partita sciagurata di Roma-Maldini, dallo spirito di squadra che aveva portato a ottenere un risultato, a mio avviso, superiore rispetto alle potenzialità della squadra. Ma ci sono dei momenti magici e anche delle situazioni particolari, delle congiunzioni astrali favorevoli in cui una squadra raggiunge un obiettivo che probabilmente non era nelle sue potenzialità. A mio modesto avviso è stato il caso del Milan dell'anno scorso, che è un merito, non è un demerito. Ma certamente Maldini, che dopo la partita parla di un Milan nei parametri delle sue possibilità, dimostrando, permettetemi l'autocitazione, che non è che quando io dicevo questa squadra non può ambire a vincere grandi traguardi perché non ha le basi sufficientemente solide per poter vincere con una certa continuità. Ecco, Maldini lo ha certificato in maniera forse sgradevole per qualche tifoso, ma il Milan, come noi andiamo dicendo da tempo, è stato costruito per arrivare tra le prime quattro, non per vincere. Non è stato costruito per vincere la Coppa Italia, non è stato costruito per vincere la Supercoppa, non è stato costruito per arrivare in semifinale di Champions League, non è stato costruito per vincere lo Scudetto. Poi, a volte nel calcio, ci sono delle variabili che ti portano a ottenere dei risultati superiori a quelli che ti aspetti, o a volte inferiori. Sono variabili difficilmente programmabili e controllabili. Queste variabili che sono state così favorevoli, questi indicatori positivi per il Milan l'anno scorso, si sono invertite tutte improvvisamente. Per cui Calulu, che sembrava un grande difensore, è ritornato a essere un giocatore con dei limiti. Tomori, che pareva essere il miglior difensore d'Inghilterra, si è capito perché non è andato ai mondiali. Giroud, che pareva straordinario, è rientrato nella sua dimensione di giocatore esperto, capace di dare un contributo, un apporto, ma non di reggere da solo tutto un attacco per ragioni di età, forse anche parzialmente di classe. Quando poi i due centrocampisti hanno una flessione, che sono i due giocatori qualitativamente più importanti del Milan, i giocatori assoluti, cioè Tonali e Ben Nasser, e quando Teo Hernandez non c'è o è in quelle condizioni, le cose si complicano. Quando poi Leao torna ad essere Leao di un anno e mezzo fa, la frittata è fatta. Certamente tutto questo non sarebbe accaduto in termini così drammatici, sportivamente parlando, disastrosi, se il Milan l'avesse potuto contare su un portiere che fa qualche miracolo. E qui torniamo a un vecchio discorso di Tataruzano. Tataruzano, abbiamo capito un anno fa che non era all'altezza di fare il dodicesimo di una grande squadra. Perché il dodicesimo di una grande squadra, quale il Milan vuole e deve essere, è un portiere che non è bravo come il titolare, ma che si sa difendere, che ogni tanto fa un miracolo. Insomma, è quello che noi vediamo in Perin, nella Juventus, in Andanovic, nell'Inter. Non è un fenomeno, ma è un portiere comunque di affidamento e affidabilità. Tataruzano non è questo. E uno dei più grandi errori del Milan, di Maldini, che con Massara, così come ha fatto bene nella stagione precedente, ha sbagliato completamente il mercato in questa, è stato non rendersi conto di una cosa che era sotto gli occhi di tutti. Era il cosiddetto elefante che vola e che nessuno ha voluto vedere. E cioè che non poteva il Milan programmare una stagione con un dodicesimo così scarso. Voi direte, ma chi poteva immaginare che Mignano... No, calma. Intanto l'infortunio, il problema al portiere è una variabile abbastanza costante. Si sa che potrebbe, se va bene, saltare due o tre partite, se va male ne salta 7-8. È andata malissimo. Sia l'anno scorso, ancora di più quest'anno, con Mignano. Però tutti avevamo capito, dal primo tifoso all'ultimo osservatore, che Tataruzano è completamente inaffidabile. E perché è inaffidabile? Perché tutti i gol che ha preso Tataruzano, a parte quello più evidentemente sbagliato che è il 3-0, ma anche quelli precedenti, sono tutti frutto di tiri sì insidiosi, ma nessuno è così irresistibile. Diciamo che almeno la metà dei gol che ha preso Tataruzano nel Milan, vi ricordo sono 17 nelle ultime dieci partite, almeno la metà di questi gol, pur non potendo essere rubricati come papere, sono stati comunque gol che un bel portiere respingeva. Allora, Mignano di quei 17 ne avrebbe presi 7 forse, un dodicesimo affidabile di quei 17 ne avrebbe presi 11, 12 e con la differenza di quei 5-6 gol che Tataruzano non è riuscito a evitare, danno anche la misura di una squadra che in questo momento potrebbe essere in una situazione comunque meno preoccupante di classifica. Perché è vero che il Milan è secondo, ha ragione Maldini, il Milan è secondo ma viene da una serie di disastri assoluta. Il Milan, pensate che nelle ultime dieci partite, ha fatto tre vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Cioè se Milan continua con questo ritmo, rischia di non andare più in Champions. E sappiamo che purtroppo il Milan colpevolmente si è già giocato a due traguardi, che erano anche più facili. Cioè la Coppa Italia uscendo sciaguratamente col Torino per colpa delle scelte di Pioli e la Supercoppa, dove la qualità dell'Inter era forse in questo momento inarrivabile per il Milan, ma insomma il Milan si è visto veramente soverchiare dai nerazzurri. Abbiamo fatto il nome di Pioli. Ebbè, certamente Pioli ha perso completamente il controllo della squadra. Pioli ha dimostrato, chi ha la pazienza di vedere questi editoriali che facciamo sul nostro canale, io l'avevo detto già in tempi non sospetti, Pioli ha perso completamente il controllo della squadra, lo ha dimostrato quando ha fatto una cosa assolutamente incomprensibile, l'ha mandata in ritiro. Mandare una squadra in ritiro è la certificazione che l'allenatore non sa più che cosa fare. Allora punisce i giocatori supponendo che i giocatori non si impegnino abbastanza, perché questo è il messaggio. L'ha mandata in ritiro una prima volta, l'ha mandata in ritiro una seconda volta dopo la partita col Torino, la prima volta dopo la trasferata di Eindhoven per un amichevole, che non ha alcun senso mandare in ritiro i giocatori. Poi Milan viene battuto in maniera così eclatante dall'Inter e Pioli improvvisamente da due giorni liberi. Ecco, questo dimostra la totale incoerenza dell'allenatore, l'incapacità in questo momento di interpretare il momento della squadra che se vogliamo è un problema in più, anche perché se Pioli perde il controllo e perde la temperatura della squadra, la squadra in sé non ha degli elementi tali per invertire la rotta. Nulla è compromesso, questo va detto, anche se siamo alla vigilia di una serie di partite particolarmente delicate. C'è il Sassuolo che in questo momento non fa grandissima paura, ma poi c'è comunque di nuovo il derby con l'Inter, c'è il Tottenham, c'è il Torino che ha creato così tanti problemi del Torino almeno in campionato. Dobbiamo vedere che cosa accadrà. Certo, Maldini dice la squadra è nei parametri e dice, torniamo a ribadirlo, l'unica verità che i tifosi forse non hanno voluto accettare alcuni tifosi, e cioè che questa proprietà del Milan, che vede come sua massima opzione quella di tenere i conti in ordine, che è anche una cosa non banale, non ha la volontà di spendere per rinforzare la squadra, ha la volontà di tenere i conti in ordine. Tenere i conti in ordine significa mettere in preventivo anche stagioni come questa. Un tifoso maturo lo accetta e cerca di trarre il meglio di quello che può offrire ancora questa stagione, che purtroppo, diciamola, al di là di una auspicata cavalcata in Champions League, che però mi pare piuttosto improbabile, è tentare di arrivare tra le prime quattro, il che per i soldi investiti, per gli stipendi pagati, sarebbe comunque un ottimo risultato, anche alla luce della qualificazione in Champions League. Ma chi si illudeva che il Milan americano sarebbe tornato ai fasti berlusconiani, purtroppo rimarrà deluso, non soltanto dopo la partita con la Lazio, ma anche nelle prossime stagioni. Questa è la realtà, non c'è nulla di male, ma quel Milan non lo rivedremo certo con l'attuale proprietà. Grazie.